Stiamo andando qui insieme a una paese, a nostri deputati, in un po' più o meno, che andavano in diritto, in angelo, in diritto, in statun'attuale, certo, conosciamo le difficoltà del nostro paese, conosciamo anche il pezzo di questo qua, che non sarà l'ultima, non è l'unica, 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 potere, pulire, tutelare, proteiche, valori, Esattamente come possiamo fare. Esattamente come 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 economy. Esattamente come convince. Esattamente come fare. e te non c'erano di capire quei momenti, ma che oggi dei miei dati, dei dati dell'amministratura a Gordano, derivano da quelli famosissimi di Raffaello, organizzati per assistire, proprio basando i stessi cartoni, sono stati poi organizzati per la presentazione. E ora noi stiamo parlando di un altro ambiente, e vi racconto, ovviamente, per il cene, per incendio di pochi letti, ed è un nome che veniva proprio nel programma, questi angeli che se li incontrano, ballano, potete immaginare che questo palazzo che mi ha detto, è una sorta di sorpresa, salvo, pensate che si raccontra di sé, non è un po' di notizia, non poter avere, diciamo così, una sala, ovviamente, per ogni cilopro del mondo, e qui, c'erano 500 persone, tra i miei dati, guardie, serbi, eccetera, su questi periodi hanno cambiato dei nomi che rimasti un attacco, tra la mani, la faena, la faena, la faena, la faena, e quindi dei matematici, cioè, quelli di uomini come Valdassate e Castiglione, come mai tutti questi nomi, questa gente, queste figure, è così importante, qui o qui, che ho trasformato in questo luogo, di una corte, che poteva anche riconosciare per tutti, in Italia, in Europa, in Italia, 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 in Italia Grazie. 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 Grazie.